Amiche mie, amiche mie, bella gente, buon pomeriggio, buon pomeriggio da me e buon pomeriggio da questo caldo che chiaramente è l'olio, devi fare caldo, è giusto che faccia caldo però, mammina santa, io mi sto sciogliendo come la neve proprio al sole, anzi, anche come il gelato. Amiche mie, allora, bella gente, spero che voi state bene, sicuramente state bene, io sto benissimo, non mi posso lamentare, un po' di giorni penso e desidero fare un video su un argomento molto molto delicato, molto delicato, sicuramente ci saranno pareri contrastanti, sicuramente ci sarà chi magari non capirà il mio messaggio o chi magari capirà e mi sosterrà. Un argomento talmente delicato che mi riguarda è un percorso che io ho fatto, un percorso molto impegnativo e di cui proprio voglio parlare perché mi è rimasto qui, 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 sono piena, non ne posso più. Non voglio dire che siamo tutti uguali, sono tutti uguali, faccio questa premessa, ognuno siamo a modo nostro, c'è gente perbene, gente ignorante dappertutto. Mi vedo una sopracciglia strana ma, vabbè, sarà la luce che vi devo dire perché è un specchio uguale. E niente, ho stoppato i video, pensate come sono messa, sono andata a vedere in specchio le sopracciglia, va bene, sono fusa. E niente, dicevo, questo è un argomento molto molto particolare, voglio essere molto breve perché su questo argomento vorrei parlare all'infinito, però chiaramente non posso fare un video di 5 ore. E parto. Questo argomento di cui vi voglio parlare è il percorso della PMA, della procreazione medicalmente assistita. Come sapete io sono 15 anni che sto lottando per diventare madre, 15 anni di percorsi particolari, percorsi più o meno difficili, percorsi più o meno dolorosi. E premetto, faccio una premessa, ognuno deve vivere questo percorso nella sua maniera, a suo modo, non voglio offendere nessuno. Parto con dire, questo è un percorso chiaro, non facile, però l'argomento di cui voglio parlare è questo. In questi 15 anni ho conosciuto persone splendide, splendide amiche del cuore che mi sono rimaste a tutt'oggi, che veramente siamo come delle sorelle, anche se magari con qualcuna non ci siamo nemmeno visti. Talmente tanto in questo percorso ci ha unite, siamo veramente delle amiche vere, ci sosteniamo e tifiamo una per l'altra, ognuna per la sua piccola vincita. Cioè se una di noi è riuscita, come le mie amiche, si gioisce tutti insieme, se una magari come me è andata male, stiamo male tutti insieme per uno, ecco, ci sosteniamo. Però premetto che in questo percorso non ho incontrato solo persone così di grande cuore, ma ho incontrato tante di quelle rompicoglioni, perché io devo dire le cose come stanno, che veramente, veramente non ne posso più. Allora, partiamo dal presupposto con non avere un figlio, avere un problema di salute, è una cosa importante, una cosa che comunque ci fa magari stare male, ci fa stare giù di morale e magari non ci fa stare a posto con noi stessi, perché il desiderio di diventare madre, chiaramente tanti noi lo desiderano e non lo possiamo diventare e dobbiamo fare dei percorsi. Però, in questo percorso ho fatto parte di parecchi gruppi di PMA su determinati social, a cui su tante mi sono eliminata, perché le lagne che vedevo in quei gruppi lì, mi hanno fatto venire due marroni grossi quanto due case, che Dio mi perdoni, ma anche io vengo da un percorso del genere e questa è una cosa che ci tengo a dirlo. Vedere delle donne che hanno lo stesso problema mio o di tanta altra gente, delle donne, non dico tutte, premetto, non dico che sono tutte, ma ne ho viste tante che scrivono, no, mi hanno invitato a cena fuori dalle mie amiche o dalla mia cugina o dalla mia cognata o da chi che sia e io non andrò perché quella è incinta e io sono proprio arrabbiata e invidiosa e io veramente ho un'arrabbia dentro e ho un'invidia, ma mare in malagra impestata, ma te donna che lotti, 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 lotti con questo percorso perché sono veramente incazzata su questo argomento, lotti come tanti altri, dovresti solo gioire di una persona che è rimasta incinta, che aspetta una vita dentro di sé e te dall'invidia che ti mangi e che non puoi diventare madre non ti godi nemmeno i momenti belli, non vai di là perché c'è bambini, non vai ai compleanni perché c'è bambini, quando vedi una donna incinta o un'amica incinta diventi una iena, cattiveria gratuita, io queste cose non le supporto, donne vi prego, capitemi bene, io vengo da un percorso dove 15 anni ho provato a diventare madre, in 15 anni solo poco tempo fa sono rimasta incinta, sono rimasta incinta che purtroppo la mia gravidanza è finita in biochimica, ma non sono stata lì a incolpevolizzare nessuno, non sono stata lì a piangermi addosso, certo lì per lì non è che sono rimasta bene, ma ho pensato cavolo, in una vita che io vorrei rimanere incinta, non ho mai avuto questa esperienza e se ora o Dio o chi che sia mi ha regalato un mese di questa esperienza bella, sono solo stata fortunata, perché aver provato queste emozioni della maternità anche per un mese è stato il momento più bello della mia vita, poi purtroppo è finito, sono stata male un giorno, ho pensato, ho riflettuto e ho detto ancora non è il mio momento, ma non mi sono messa a incolpare nessuno e tantomeno non evito di andare a pranzi e a cena dove sono i bambini, perché io dentro ho la cattiveria o l'invidia, se c'è un'incinta no, gioisco quando vedo una ragazza che corrona il suo sogno, gioisco quando vedo una donna incinta e non supporto queste persone che avendo questi problemi, lottando anche loro per essere madre, hanno questa tale cattiveria o rabbia, secondo il mio punto di vista, queste persone sono già infelici del suo e anche se avessero dei figli non cambierebbe niente nella loro vita, rimarrebbero sempre con l'acidità e la cattiveria dentro. Donne, ma che vi passa per la mente? Come fate a dire, madonna, la mia vicina di casa è incinta e qua e là? Ci sono anche momenti magari quando dici, madonna, anche a me mi è capitato di dire, mamma, questa è incinta e non lo volevo, in questo caso dico, mamma, però questa è una cosa ingiusta, lei non lo voleva, io lo voglio e non ce l'ho, ma che io devo avere una rabbia per chi è incinta o per un pancione bellissimo che vedo, ma io gioisco, per me le donne incinte sono bellissime, sono bellissime. E vi dicevo, su questi gruppi ho incontrato tante di quelle donne cattive, non lo so se è il destino, se è il percorso, se proprio loro sono stronze dentro, perché secondo me uno nasce così, se uno ha la cattiveria, ha la cattiveria ovunque, perché io non posso sentire, non posso sentire persone che parlano così, che dicono queste cattiverie, non vado là, non vado qua, non è incinta e i bambini, non lo sopporto, io odio, io mamma mia sono invidiosa, ma gioite, imparate a gioire, prima o poi arriverà la gioia anche per voi, ci vorrà un anno, due, dieci, ma chi se ne frega, vuol dire che la gioia quando vi arriverà sarete molto più contenti e gioierete ancora di più. E ancora un'altra cosa voglio dire, non posso sentire nemmeno persone che scrivono, infatti mi sono cancellata quasi da tutti i gruppi, persone che scrivono, come siamo state sfortunate, questo è un destino ingiusto per noi, questo è un destino molto cattivo per noi, un destino cattivo, oh, ma lo sapete cosa vuol dire un destino cattivo, lo sapete cosa vuol dire un destino ingiusto? quando tu hai una brutta malattia e stai morrendo e non riesci a guarire, quando ti muore una persona cara, quando hai un bimbo che sta soffrendo nella vita e la morte, quando rimani paralizzato, quando hai dei problemi che veramente non c'è speranza, ma no quando uno non ha un filo, sì, è una cosa brutta, uno ci può stare male, ma non è, per me non è questo il brutto destino, perché ognuno di noi ha il suo e dobbiamo prendere dal destino le cose belle e brutte e non incolpare sempre qualcuno per le nostre, diciamo, tra virgolette piccole disgrazie, che non lo chiamo nemmeno una disgrazia, chiamo un problema di salute o un problema meccanico, come nel mio caso, e bisogna darsi da fare, bisogna trovare dei medici, bisogna trovare anche la fortuna e bisogna credere anche nel destino, perché il destino farà sempre il suo corso, sì, la medicina fa il suo, ma se dal destino non c'è, non ci sarà e lasciatevi andare al destino, levate da voi questa cattiveria che avete dentro e fate la finita di piangervi tutti i giorni addosso con questo destino cattivo, non è cattivo il destino, siete voi che non sapete prendere dal destino quello che vi dà, magari questo è un periodo, sì, come per me 15 anni di lotte, di non mollare, anche io piango, anche io ogni tanto sto male, ma vado avanti, vado avanti, credo e spero e ogni passo che vado avanti, lo so che mi avvicina più sempre al mio sogno di diventare madre, ma non di certo con la cattiveria e con la rabbia dentro verso altre donne che rimangono incinte, verso donne che magari hanno un figlio dietro l'altro e voi siete lì a rozzicare, ma godete di queste cose, se voi riuscireste a godere delle cose così belle, anche altrui, imparerete a vivere anche con questo disagio, o con questo diciamo problema tra virgolette, di avere problemi per avere figli, ma ripeto, non è di certo questo il destino brutto, cattivo e che è stato con noi così ingiusto, dobbiamo dire grazie a Dio che camminiamo, che mangiamo con la nostra bocca, andiamo a giro con le nostre gambe, andiamo a bagno con il nostro sedere, che nessuno ci deve lavare, che nessuno ci deve portare a giro, noi siamo già fortunati, smettetela di fare tutto sto ambaradam cicicoco, perché non se ne puole più, certo ci si sta male quando una cosa non va bene, quando un'inseminazione non va a buon punto, quando magari hai avuto un aborto, una biochimica come me, quando non attacchisci e sei lì con l'aspiranza, io queste cose le ho vissute tutte, ma bisogna farla finita, finita di incolpare sempre qualcuno, di avere rabbia verso tanti altri, io ho visto donne che in quel gruppo lì, se uno metteva un test di gravidanza, anziché dire siamo felici per te, dicevano no, ma sai questo test è invalidante, questo test da tanti falsi positivi, ma fate hazi tua, falla gioire, poi il destino farà vedere quello che è da vedere, chi sei te per sciupare un sogno a una persona che lo aspetta da tanti anni, ma chi ti credi di essere per dire no, no, rifai un altro test, questo non è buono, a me mi hanno sempre dato falsi positivi, sì va bene, lei dice ma bisogna essere onesti e non dare speranze, sì ma c'è modo in modo, c'è modo in modo di dire le cose e fai arrivare questa persona da sola, questa persona lì in quel gruppo, magari perché cerca sostegno, cerca una parola di conforto, cerca un stai tranquilla, andrà tutto bene e se non andrà, andrà bene la prossima volta, ma non di certo la vostra cattiveria e il vostro veleno, dove riuscite sempre a smontare ogni cosa, io penso che finché dentro delle donne ci sarà questa cattiveria o finché dentro una donna c'è questa cattiveria, mi domando, ma è mai possibile che può diventare mamma una persona con tanta cattiveria e invidia, io mi domando, non lo so, non lo so, però io penso per essere, per trovare la pace interna anche senza un figlio, perché non è detto che io questo figlio lo avrò, ma io ci proverò fino a un certo punto, poi se non verrà vuol dire che avrò la gioia dagli altri bimbi, dalle mie amiche, dai miei nipoti un domani, o persone che mi voglio bene e a cui voglio bene, ma non di certo la mia frustrazione lo verserò sulle donne che sono incinte, o sulle donne che hanno già due o tre figli e rimangono incinte senza volere, o non di certo eviterò di andare a compleanni e a feste perché c'è bambini piccoli, o gente, ma vi siete bevuti il cervello, ma questa cattiveria che caspita vi porta, io non ho parole, non ho parole, non ho parole, lo so che tanti non saranno d'accordo con me, tanti mi diranno che sono insensibile, ma io mi reputo una persona molto sensibile e penso che nella vita bisogna sempre gioire delle cose belle altrui, prima di tutto, e poi la vita andrà sicuramente bene anche a noi, magari non otterremo quel risultato, magari rimarremo sempre con l'amaro in bocca, però c'è tante altre cose belle della vita, ripeto, siamo in grado di camminare, di lavorare, abbiamo dove dormire, abbiamo cosa mangiare e di cosa gioire, abbiamo dei compagni, dei mariti, magari dei fidanzati, o magari se non li abbiamo più, si trova sempre delle piccole cose per gioire tanto, e se una impara a gioire dalle piccole cose, le arriveranno anche le grandi cose, ecco, mi dispiace se per qualcuna magari questo video sarà un po' una botta in testa, ma non me ne può frega di meno, perché mi sono stancata, mi sono stancata, di leggere, di vedere queste cattiverie tra donne, tanto più hanno una difficoltà come me, come tante altre in questo mondo a diventare madre, e vedere queste invidie, questa cattiveria, e questa ignoranza, non mi piace, non mi piace nemmeno a me che io ho questo problema, non è colpa né del destino, né di Dio, né di nessuno, ognuno ha le sue, c'è chi sta peggio di noi, e finiamolo di lamentarci, bisogna andare avanti. Amiche mie, spero di non aver offeso nessuno, ma chi si offende vuol dire che fa parte di quella categoria lì, che di cui vi sto parlando. Oh, come sto meglio, ma quando uno dice quello che pensa, come ti senti meglio? Benissimo, Oggi mi sono fatta le mie unghiete, si vedono malissimo, però sono contenta, corte, bianche, ci stanno bene. Amiche mie, io auguro a tutti voi davvero di cuore, a chi come me sogna di diventare madre, di diventare madre, e di essere felici, di avere pazienza, e se non l'ho ancora diventato, arriverà il momento, e se non arriverà, bisogna imparare a vivere anche, e gioire delle cose piccole che la vita ci dà, delle cose preziose che abbiamo, non dimentichiamole lì. Io davvero vi abbraccio uno a uno, vi chiedo di sostenermi con un like, di condividere i miei video, a voi non costa niente, invece aiutate sicuramente me a crescere, e davvero vi abbraccio con cuore, e vi auguro il meglio del meglio, vi auguro una settimana serena, piena di serenità, che è la cosa più importante, e cercate nella vita di perdonare, di lasciare andare, di non portarvi dentro nessuna zavvora, cercate di essere, di non avere la cattiveria, l'invidia, perché non porta niente, ci fa solo stare male, ci fa solo stare in ansia, e ci fa invecchiare troppo presto. Ciao bellezze, mi raccomando, siate sempre più buoni, che è la cosa migliore del mondo. Ciao. 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 Grazie.